Un'anteprima per un artista romano che si chiama Pasco sta per uscire il suo nuovo lavoro, intanto noi abbiamo la possibilità di dare un'anticipazione di questo disco con una traccia che si chiama Emotional Living, lui è Pasco da Roma. Un'anteprima per un artista romano che si chiama Pasco da Roma. Un'anteprima per un artista romano che si chiama Pasco, intanto noi abbiamo conosciuto come artista di musica elettronica, in questo caso si preannuncia un lavoro invece di natura acustica e quindi qualcosa di totalmente diverso, Emotional Living per Pasco, bene, quindi questa era un'anticipazione che abbiamo ascoltato qui all'interno di Note e Notizie.